Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca Caso di Cicunguia virus, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre che è stato rilevato all'ospedale San Donato di Arezzo a seguito di ciò e a tutela della salute e dell'igiene pubblica è stata emessa un'ordinanza del sindaco di Arezzo con la quale si dispone la disinfestazione nelle aree limitrofe il nosocomio via Cesare Battisti per un raggio di 200 metri intervento previsto nella giornata odierna di sabato appunto alle 22 e 30 Durante il trattamento è necessario adottare una serie di precauzioni tra cui restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria oltre a tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere sia i loro ricoveri sia le suppellettili In seguito al trattamento si raccomanda anche di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi larvarle anche abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso Sempre per la pagina di cronaca Marco Ricci è precipitato ed è morto da un vano ascensore mentre stava svolgendo il suo lavoro a Genova si trovava nel cantiere del parco del ponte Morandi lavorava in una delle strutture a fianco del memoriale per le vittime della tragedia del 14 agosto 2018 quando è avvenuto l'incidente al ponte il 39enne era residente a Sansepolcro ce ne parla Chiara Sadotti Lavorava al memoriale della tragedia del ponte Morandi a Genova quando lui stesso ha perso la vita è morto così Marco Ricci, operaio di 39 anni l'uomo originario di Roma ma da tempo residente a Sansepolcro è precipitato nel vuoto mentre operava nel cantiere in un volo da 10 metri d'altezza in base ai primi accertamenti stava compiendo dei passi all'indietro con un peso quando la trave sulla quale stava camminando che ricopriva il vuoto dentro al vano ha ceduto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dell'asla l'operaio sarebbe andato in arrastocardia come i medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Martino dove però è deceduto dopo alcune ore la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per ora a carico di ignoti ci sarà da stabilire eventuali responsabilità tra gestori di appalti e subappalti dei lavori nel cantiere Marco Ricci, dipendente di una carpenteria di Sansepolcro stava lavorando alla costruzione della nuova ludoteca del futuro Parco del Ponte il progetto di riqualificazione del quartiere Certosa con il memoriale a ricordo della tragedia che il 14 agosto 2018 stroncò la vita a 43 persone per il crollo del Morandi tra cui anche due giovani aretini, Carlos e Stella la notizia della morte di Marco Ricci ha ben presto lasciato sgomenta l'intera comunità biturgenze e in seguito al decesso di Marco Ricci profondo cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale per la morte appunto del 39enne con enorme tristezza abbiamo appreso di questa tragica notizia dichiara il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti l'ennesima di una catena che pare purtroppo senza fine che rende ormai irrimandabile affrontare con decisione la questione di tutela della massima sicurezza sui luoghi dove si lavora e dove invece si incontra la morte Ancora cronaca, era andato nel bosco per cercare i funghi ma è inciampato finendo a terra e ferendosi una caviglia sono stati i vigili del fuoco di Bibiena insieme ai colleghi dell'equipaggio aereo Drago a recuperare un uomo che nella mattinata di oggi si era infortunato mentre si trovava in una zona particolarmente impervia l'episodio è avvenuto sul Monte Cucco in località La Villa nel comune di Prato Vecchio Stia, la persona è stata raggiunta dalla squadra a terra di Bibiena e dagli eli soccorritori che si sono calati dall'elicottero e hanno portato il ferito presso la piazzola dell'elinucleo dove ad attenderlo c'era l'ambulanza dell'emergenza sanitaria che lo ha trasportato all'ospedale del Casentino I carabinieri della compagnia di Cortona hanno invece svolto varie attività di controllo del territorio a finire in manette un cinquantenne castiglionese con l'accusa di truffa perpetrata tra Castiglion Fiorentino e Arezzo I carabinieri di Cortona insieme al personale del NIL di Arezzo hanno invece segnalato quattro persone tutti titolari di esercizi pubblici del territorio responsabili di aver usato sistemi di videosorveglianza non autorizzati ma anche mancata formazione sulla sicurezza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori mancata predisposizione di mezzi di estinzione degli incendi per non aver anche custodito ed esibito il documento di valutazione dei rischi 18 mila euro in totale le multe combinate a Fogliano della Chiana i militari hanno fermato e trovato alla guida un uomo con la patente revocata il veicolo è stato sequestrato ed è scattata la denuncia infine a Terontola un giovane cortonese è stato trovato in possesso di uno spinello di ascisce per questo segnalato alla prefettura e torniamo ad Arezzo un nuovo mezzo per il trasporto dei diversamenti abili è stato donato alla croce bianca di Arezzo da parte di alcune aziende del territorio vediamo il servizio con il paziente chiudiamo i gangi della pedana saliamo il paziente fino a qui ovviamente e poi accompagniamo il paziente e lo leghiamo con questi gangi che noi abbiamo per la sicurezza del paziente perché la carrozzina deve rimanere ferma assolutamente un nuovo mezzo, un pulmino attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili alla croce bianca di Arezzo a donarlo sono state alcune aziende del territorio noi abbiamo molti servizi socio-sanitari al quale dedichiamo una trentina, trentacinque automezzi quindi c'è sempre una maggior richiesta e soprattutto una richiesta di una qualità del servizio che noi possiamo dare e cerchiamo sempre di garantire questo pulmino ci aiuta tantissimo e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per l'acquisto sono 17 sponsor che hanno permesso di fare questo ulteriore passo avanti per la croce bianca molti molti imprenditori basta che anche io lo le ho chiaramente coinvolti tutti e nessuno ha detto di no siamo contenti di aver fatto questo progetto di dare un aiuto alla città come sempre e volevo ringraziare prima di tutto questi sponsor perché vedo che sono tutti rimasti contenti anche del pulmino come è riuscito e sempre a D'Arezzo è tornata come di consueto la fiera antiquaria siamo andati a dare un'occhiata come ogni primo fine settimana del mese nel cuore della città torna la fiera antiquaria edizione di ottobre che edizione? edizione molto buona perché nonostante le alletta meteo nostre e nei dintorni abbiamo 228 espositori che sono ben 18 in più dell'edizione di ottobre 2023 espositori da tutta Italia negli angoli più suggestivi della città in mostra opera d'arte mobili, gioielli, accessori libri, strumenti musicali e molto altro ancora come ogni primo weekend del mese nel centro di Arezzo è tornata la fiera dell'antiquariato baciata dal sole in questa edizione di ottobre tra i 22 spuntisti ce ne sono un paio nuovi mi dicono fra l'altro ci sono un paio nuovi e di ottima qualità quindi la fiera che continua a dimostrare salute il meteo ci ha dato una mano e quindi dovrebbe promettere bene tanta gente molti turisti quindi siamo soddisfatti ecco vediamo infatti tante persone a passeggio e anche turisti ancora ad ottobre sì, sì ancora meglio continua questo flusso perché settembre è andato malissimo a ottobre sta andando bene i musei stanno facendo numeri quindi siamo moderatamente soddisfatti screening gratuiti per la prevenzione delle patete C alla farmacia Campo di Marte le farmacie comunali di Arezzo hanno aderito alla campagna Testiamoci promossa dalla regione toscana e fino al 31 di dicembre hanno previsto uno spazio nella più storica delle farmacie dove i cittadini tra i 35 e i 55 anni potranno effettuare un test finalizzato ad individuare precocemente questa pericolosa infezione le otto farmacie della città e frazioni inoltre continueranno fino a lunedì 21 ottobre ad essere sede della campagna di informazione mese del benessere cardiologico e adesso parliamo degli animali perché oggi è la giornata nazionale degli animali e anche EMPA è scesa in piazza ad Arezzo vediamo è la giornata degli animali ma gli animali per noi sono tutto l'anno ovviamente è un porre l'accento su una realtà che seguiamo 365 giorni l'anno sono scesi in oltre 100 piazze italiane e volontari EMPA ed ovviamente lo hanno fatto anche ad Arezzo in piazza Sai Jacopo con un mercatino in occasione della giornata degli animali Vendiamo anche un po' di cose che arrivano dal nostro nazionale che ci supporta tutto l'anno costantemente anche in questa giornata così importante e ovviamente c'è l'aiuto di tutta la città che ci ha aiutato ovviamente a portare come potete vedere c'è tante cose da acquistare Il tema scelto quest'anno è stato quello delle adozioni consapevoli con un cofanetto regalo tanto insolito quanto speciale all'interno infatti non ci sono attività ma strumenti divulgativi perché non c'è di peggio di un cane che viene adottato e magari dopo una settimana o due settimane torna in canile il cane si sente abbandonato una seconda volta e ve lo posso garantire purtroppo per l'esperienza di vita vissuta che il cane che si sente abbandonato sembra che si domandi dove ho sbagliato in realtà non ha sbagliato nulla però vabbè è successo quindi adozione consapevole vuol dire tante cose vuol dire pensare che ci deve essere il cane giusto nella situazione giusta in questo senso infatti noi invitiamo tutte le persone che vogliono adottare un cane ad affidarsi anche ai consigli dei nostri ragazzi dei nostri dipendenti che in realtà sono istruttori cinofili ed educatori cinofili quindi persone competentissime insomma che sono in grado di dire appunto se un cane è il cane giusto o meno perché la persona giusta e il cane giusta sono il connubio corretto e il binomio che è quello che è la vera adozione consapevole la chef tallese Francesca Bartoli è tra i 24 concorrenti selezionati in tutta Italia per partecipare al contest The Best Sandwich 2024 l'edizione di quest'anno del noto contest prevede la realizzazione di panini gourmet utilizzando un ingrediente segreto e un tipo di pane fornito dagli organizzatori il tutto in soli 15 minuti di tempo il tema della gara tra gli chef è tradizione e contaminazione ovvero saranno premiati i panini che seguiranno ricette tradizionali ma leggermente rivisitate il contest prenderà ufficialmente il via il 16 di ottobre prevede la partecipazione in giuria di chef stellati che valuteranno il panino più buono che saprà raccontare la tradizione con un tocco di modernità e adesso passiamo alla nostra pagina sportiva parliamo subito in apertura dell'Arezzo calcio e ascoltiamo l'allenatore Amaranto Emanuele Troise alla vigilia della trasferta di Sassari per la partita Torres-Arezzo in programma domani alle ore 15 sappiamo della continuità che sta dando e ha dimostrato anche in queste prime gare la Torres cambiando poco inserendo secondo me i giocatori molto funzionali a quella che già era una struttura secondo me molto competitiva come ha dimostrato l'anno scorso squadra squadra difficile da incontrare sotto l'aspetto fisico una squadra molto verticale che comunque all'interno ha anche dei giocatori di qualità ha lasciato i principi i principi più o meno dell'anno scorso quindi in tal senso abbiamo lavorato su una partita sotto l'aspetto dell'importanza per avversario e blasone simile a quella della Ternana la quale ci dice che i dettagli faranno la differenza che bisogna essere attenti su ogni circostanza ma allo stesso tempo abbiamo lavorato su caratteristiche diverse perché ripeto rispetto alla Ternana sviluppa in modo diverso ti viene a prendere in modo diverso molto aggressiva nell'uno contro uno e quindi dobbiamo essere bravi in questo senso e come accennavo prima oltre al dettaglio poi abbiamo curato quello che in questo momento sta venendo un po' a mancare in un'organizzazione secondo me che sta crescendo un'espressione di gioco che sta crescendo ma dove manca qualche numero manca qualche numero lì davanti così come dobbiamo abbassare qualche disattenzione lì dietro perché poi nel computo di quelli che sono i risultati oggi ma sarà sempre così fanno la differenza soprattutto quando c'è un equilibrio così alto e anche le citte a Maranto si apprestano a scendere in campo per la quinta giornata di serie B femminile la partita della CF Arezzo si giocherà in casa ma non tra le mura dello stadio città di Arezzo che a causa di lavori di manutenzione non è agibile per il match sarà invece lo stadio dei Pini di Fogliano della Chiana dove la CF Arezzo ospiterà l'orobica Bergamo Ilaria Leoni e le sue ragazze torneranno subito alla ricerca dei tre punti dopo la battuta di arresto subita contro il Bologna dopo il buon inizio di stagione l'Arezzo vuole rimanere in lotta per posizionarsi nella parte alta della classifica e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.